Per quale motivo Putin avrebbe dovuto usare le armi atomiche tattiche, le testate tattiche in Ucraina? Evidentemente ci aveva in mente questo progetto. Ma non ha senso, scusa, questa cosa proprio, io sto seguendo molto da vicino. Ma noi, Tom, dobbiamo accettare che non sappiamo tutto e non ci viene detto tutto, né dall'uno né dall'altro. Sì, d'accordo. Quindi non sappiamo tutto quello che ha in mente di fare la Nato e non sappiamo tutto quello che ha in mente di fare Putin. Vedi, c'è un aspetto, Tom, che a parer mio è poco considerato. Putin è alleato della Cina, la Cina è la peggior società immaginabile, è una società distopica, dove già tutto ciò di cui noi chiamiamo, transumanesimo, controllo, è già così. Quindi Putin è alleato di una cosa così, a me spaventa tanto. Quindi ci sono... Diciamo che c'è un livello di alleanza e un livello... Ci sono vari livelli di alleanza. Perché, insomma, io seguo da molti anni tutte queste questioni, la fondazione dei BRICS, eccetera, eccetera. Per questo ti dico, seguendo la questione da molti anni e ascoltando soprattutto, in particolare la consiglio a tutti, l'intervista che fece ancora qualche anno fa Oliver Stone a Vladimir Putin. Io consiglio a chiunque di ascoltarsela bene e poi, insomma, ascoltando un'intervista di un personaggio che si è esposto per ore, sono ore di intervista, faccio veramente fatica alla luce di quello che so e alla luce di quello che percepisco del personaggio, immaginare che faccia la scemenza di voler usare senza alcuna ragione poi, perché non c'è nessuna ragione militare. Tom, dobbiamo accettare che non sappiamo tutto. Infatti io non pretendo di saperlo, per cui lo domandavo a te se... Io ti posso dire una cosa, che se era creato un canale dove io potevo arrivare a Putin, capito, Tom? Se era creato un canale dove io potevo arrivare a Putin assieme ad altri personaggi e so che quella gente lì sa di noi, ci conosce, perché qualcuno gliel'ha detto. Di noi? Di noi, sì. C'è stata una triangolazione di fatti, di cui l'ultima notizia è stata questa, che c'era stata, si era aperta una finestra poco prima dell'attacco del 24 febbraio dove noi potevamo andare a Mosca a parlare col presidente e poi si è chiusa. Tra l'altro io in questo progetto c'era anche Rolando. Io volevo portare Rolando e la macchina di Majorana dal signor Vladimir e dirgli disarmati, cioè ti diamo la macchina. Sì, sì, certo. Quindi il gioco, Tom, è un gioco complicato perché la vera geopolitica la stanno facendo gli extraterrestri, loro sono quelli che tirano e mollano la briglia. Cioè se noi siamo ancora vivi lo dobbiamo a loro. Quindi tutta la geopolitica moderna comprende l'intervento extraterrestre perché loro hanno modulato e continuano a modulare fino a che non arriviamo all'ora X. L'ora X è quando l'ultimo essere umano terrestre si sarà risvegliato. Lì si chiudono i giochi. Ad esempio nei documenti tra Marshall e Roosevelt, nel 1941 loro trovano nel disco volante recuperato i segreti nucleari per fare l'atomica. L'hanno trovato su un disco volante e a bordo dei dischi volanti c'è salito Einstein e il signor Oppenheimer. Quindi c'è tanto... I documenti sono documenti ufficiali, sono stati desecretati e non li conosce nessuno perché li ha desecretati un ex pilota militare francese che io ho intervistato e conosciuto a San Marino che si chiama Jean-Gabriel Greslet che ha pubblicato tutta questa documentazione. Ci sono persino le relazioni tecniche dell'equip di ingegneri che sono saliti a bordo dei dischi volanti recuperati a Roosevelt, San Antonio e l'altro non me lo ricordo. Quindi c'è una storia che è gigantesca e profondissima dove tutto quello che ci viene raccontato di fatto, di fatto Tom, il sistema c'è in mano l'informazione e la controinformazione. La controinformazione non perché è venduta perché viene agevolata e viene mitizzata ma in realtà non ha capito e quindi non è in grado di dare una vera risposta per evincersi e liberarsi del sistema. Solo questa gente ci ha dato la risposta e il sistema e lo strumento poi sta a noi usarlo. Io l'ho usato quindi anche se il signore di cui mi parlava Raffaele dice quelle castronerie ma la mia vita è una dimostrazione per me stesso che è vero perché lo vivo. Io ho avuto contatti con questi esseri non sono un contattista sono uno che ha scelto di collaborare con loro perché cercano collaboratori non ne trovano perché per collaborare con loro i loro standard sono molto severi quindi mi ci sono voluti vent'anni per arrivare all'operatività che serviva loro quando ci sono arrivato mi hanno ricontattato e mi hanno detto ok possiamo partire ma loro hanno sovrainteso a tutto quello che io ho vissuto se non è impossibile anche per questioni semplici non puoi tu da ferroviere e macchinista e di colpo diventi un genio dei documentari cioè non ha senso io non ho mai studiato mi ricordo le prime sceneggiature per i documentari le ho scritte a mano ho quadernoni pieni ti immagini ricopiare, incollare e c'era un amico che era un commercialista all'epoca faceva questo mestiere a cui passavo il quadernone della stesura definitiva e me la batteva su Word si è ammalato avevo terminato la sceneggiatura di un documentario si è ammalato mi ricordo mi sono messo davanti al computer così ho detto io e te dobbiamo parlare mi sono seduto ho aperto Word poi ho imparato a fare i montaggi la regia, le riprese tutto da autodidatta frequentando esperti cioè andando a bottega come faceva Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci non è laureato prima non c'era l'università in mano ai potenti che ti insegna le cazzate perché se i laureati fossero gente istruita e intelligente il mondo sarebbe un paradiso se il mondo va sempre peggio vuol dire che le università sfornano un sacco di cretini conformati al sistema